Il progetto CHIMAP è la costruzione di uno strumento per la navigazione e la mappatura dell'accessibilità delle strade urbane e extraurbane. L'obiettivo di questo progetto è ridurre al massimo le barriere informative sull'accessibilità dei percorsi perché noi rileviamo che è proprio la mancanza di informazione sull'accessibilità un primo ostacolo al movimento delle persone che si muovono insieme alle rotelle che sono esattamente l'obiettivo del nostro progetto è raggiungere queste persone. Lo strumento in realtà è fatto da due applicazioni, da due app per smartphone in grado di rilevare in automatico e di aggiornare automaticamente il database sull'accessibilità delle strade database sul quale funziona il navigatore per impostare i percorsi da fare, da scegliere durante gli spostamenti dei destinatari.